Ritorniamo in diretta in Voce delle Chiese, rimaniamo però a Roma dove già eravamo poco fa. In questo caso rimaniamo a Roma per parlare di un corso di formazione promosso dalla Commissione Sinodale per la Diaconia, la Diaconia Valdese e dalla Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano. Con noi Fabio Perroni, proprio della Consulta delle Chiese Evangeliche del Territorio Romano, a cui diamo il bentornato. Ciao Fabio, bentornato su Radio Beckwith. Ciao a tutti e a tutte, buon pomeriggio, grazie dell'invito. Grazie a te della disponibilità. Come nasce l'idea di questo corso per volontari? Che tra l'altro, dicevamo prima a Furionda con Sara, che oggi mi accompagna nella diretta di Voce delle Chiese, Sara Turner di Riforma, ha un bellissimo titolo, fare o essere volontari. Si gioca un po' su questi due verbi la differenza? Esatto. Allora, nasce dal gruppo territoriale romano della CSD, cioè questo gruppo formato da rappresentanti delle Chiese e rappresentanti dei vari servizi territoriali della Commissione Sinodale per la Diaconia di Roma, a cui la Consulta si è felicemente aggregata e supporta l'iniziativa. Nasce però come gruppo territoriale CSD e nasce proprio per un bisogno che abbiamo visto venire fuori dalle Chiese, cioè c'è sempre di più l'attenzione a focalizzarsi su servizi diaconali, c'è sempre più il bisogno di creare rapporti a doppio senso con i servizi presenti della CSD, ma c'è bisogno anche di persone che non si buttino in campo senza un minimo di formazione. Per cui si è pensato di fare questo primo corso, speriamo che ce ne siano parecchi altri, di formazione iniziale, scegliendo alcune tematiche che a noi sembravano importanti per iniziare. Sì, ecco, le tematiche, rimanendo su questo spunto che tu davi adesso, Fabio, sono davvero differenti. A me ha colpito, ad esempio, una tematica che avete scelto per uno degli incontri, sono cinque, insomma, questi incontri che avete previsto, però in un incontro parlerete anche del territorio, perché ogni territorio ha le sue caratteristiche e fare attenzione a quello di cui ha davvero bisogno un territorio specifico senza replicare, non un po' come una scatola chiusa, come uno schema, le attività è forse la base fondamentale. Esatto, cioè dopo i primi due incontri che sono un po' più, diciamo, volano alto sull'ascolto, la relazione di aiuto, a noi sembrava importante calarci nella realtà romana, calarci in quelle emergenze che sono proprie di una città come Roma, che, non voglio dire, presenta quasi tutte le emergenze possibili. Pronto? Sì, c'è stato un momento che non ti ho più sentito. No, no, noi ti sentiamo bene, ti sentiamo molto bene. Ah, ok, no, no, pensavo di parlarti sopra. No, 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 dicevi che Roma che in effetti presenta svariate situazioni emergenziali. Tante, non voglio dire troppe, ma tante. Si passa, come abbiamo sentito prima, dai senza fissa dimora, le emergenze della strada, si passa all'accoglienza dei corridoi umanitari, ma si passa anche alle nuove povertà, cioè tutta una estrema periferia romana dove i problemi economici, i problemi del lavoro che non c'è, sono poi interconnessi anche con una problematica anche scolastica, cioè la difficoltà dell'integrazione di diverse nazionalità nelle scuole, ma anche degli stessi bambini italiani a frequentare e continuare almeno le scuole dell'obbligo contro una veramente povertà educativa e formativa che stiamo sempre di più osservando. Prima con la pastora Elia Dio Sto Santo parlavamo anche del lavoro di rete che fate insieme a diverse altre associazioni, organizzazioni, quindi l'importanza appunto di creare delle sinergie con tutti i soggetti che operano sul territorio. Questo vale ovviamente ovunque, vale forse ancora di più, a maggior ragione, nella capitale, che quindi ha anche una struttura ancora più grande, però fare rete vuol dire anche tra di voi, cioè tra i volontari, un po' come dice il titolo stesso del corso, vivere la reciprocità contro l'individualismo, cioè anche tra di voi si crea una dinamica di fare rete. Com'è questa collaborazione che ormai è piuttosto rodata all'interno del gruppo di Breakfast Time? Allora, nel Breakfast Time vi ha già parlato la pastoria Liagi, quindi fare rete diventa fondamentale anche per un motivo, evitare sovrapposizioni, evitare uno spreco di energie, anche economiche, nel senso che fare le stesse cose, sovrapporsi, provoca tutta un'altra serie di problemi. Fare rete in una città come Roma è fondamentale, perché dove non arriva uno può aiutare o arrivare l'altro, quindi questo diventa quasi prioritario. Noi abbiamo visto, ad esempio, piccole iniziative dello scorso anno in cui per la giornata, per delle giornate particolari, tipo del profugo, del migrante, eccetera, eccetera, abbiamo organizzato insieme ad altre associazioni tutta una serie di iniziative proprio facendo rete e il successo di queste sui vari territori locali ha portato frutto proprio per il lavoro di rete fatto con queste altre associazioni in realtà che lavorano territorialmente in maniera molto molto precisa e attenta. Bene, quindi, insomma, c'è tempo per iscriversi? State raccogliendo? C'è tempo per iscriversi? Noi abbiamo messo come data il 25 settembre, ma tutte le cose anche a corso iniziato il 2 ottobre, chi vuole si potrà senz'altro aggregare senza nessun tipo di problema. Il corso è gratuito, si svolgerà presso il Salone della Chiesa Metodista di Via Firenze, alle 18 di tutti i mercoledì di ottobre. Esatto, le date sono il 2, il 9, il 16, il 23 e il 30 di ottobre per questo corso. Grazie, grazie Fabio, grazie per questo collegamento, per averci dato qualche informazione in più. Buon lavoro a te e a tutti gli amici della Chiesa Metodista di Roma. Grazie, grazie a voi per l'invito e a presto con altre iniziative. Ecco, una cosa se posso aggiungere. Come consulta invece riniziamo i corsi d'italiano e i corsi patente, che sono, il corso patente è l'unica, siamo l'unica realtà che li organizza gratuitamente a Roma. Ma rivolti a chi in questo caso i corsi? Li volti? Allora, i corsi d'italiano sono per immigrati presenti a Roma, ci sono anche dei corsi in DAD, quindi anche chi non fosse materialmente presente a Roma può collegarsi. Sono corsi dalla 0 al B1, quindi con esami fatti dall'Università di Perugia per Stranievi, hanno valore legale e sono totalmente gratuiti. Bene, grazie per questa aggiunta che ci hai dato, ancora di altri spunti di iniziative che portate avanti. Grazie ancora Fabio, buon lavoro a te e a tutta la Chiesa. Grazie mille, a presto.